Musica Bene ragazzi, questo è Epi e bentornati in questo nono episodio di Minecraft Allora, l'ultima volta eravamo morti, non so se vi ricordate, penso proprio di Sivis Se ci aveva ucciso quel fottuto Enderman del cavolo Quindi dobbiamo andare necessariamente a riprendere la nostra roba Perché io là avevo tipo il piccolo di diamante, la spada forse anche di diamante, non mi ricordo se avevo la spada Perché altro avevo scattato un monte di roba, è l'esperienza, cioè non posso lasciare tutto a quel maledetto Enderman che mi ha ucciso per bontà divina Allora, eravamo morti qua sopra giusto? Ok, sembrerebbe non esserci nessuno Tutta la mia esperienza, ah sì avevo anche la spada ovviamente, non di ferro, di diamante Allora, raccogli tutto, vi ricordo che Minecraft esce di solito un giorno sì e un giorno no O almeno questa serie esce un giorno sì e un giorno no E soprattutto una cosa fondamentale è che visto me l'avete davvero chiesto in tantissimi Nel decimo episodio rilascerò in descrizione il download della mia mappa Se volete utilizzarla, se volete giochicchiarci e esplorarla un po' anche voi Non mi farò alcun problema Guardate cosa ho trovato, ho trovato uno smeraldo Se non mi ricordo male, anche qua c'era uno smeraldo, vero? Sì sì, anche qua giù c'era uno smeraldo Allora, raccolgo un po' di carbun e qua c'era lo smeraldo prima che mi uccidesse l'Enderman Io adesso ho paura però devo risperare, eh, resistiamo tutto Metto la spada qua, il secchio davanti Le staccionate cosa me ne faccio? Niente, totalmente niente L'Enderman è sparito, del tutto E' bello che c'era un Enderman e uno scheletro Quindi cosa può essere successo? O l'Enderman ha ucciso lo scheletro O lo scheletro ha ucciso l'Enderman e poi mi ha fatto a morire l'altro Resterà un dubbio per sempre Qui c'è la lava, quindi il nostro cammino è bloccato E noi in questo episodio, ragazzi, dovremmo andare a cercare il villaggio dei villaggeri Non ci riusciremo perché fanno una volta ogni mille anni No, non è vero in realtà Però vediamo, magari ci riusciamo Non so se avete visto che sono tagliati i capelli Perché quelli troppo lunghi No, mi stanno... Ma me non mi sa stancare i capelli troppo lunghi Adesso mia testa respira Oh, due smeraldi Rarissimo trovarne due insieme Gli abbiamo trovati due insieme Siamo stati... Fortunelli Prendiamo un po' tutti i materiali per non tornare su a mani vuote Visto che avevamo detto di andare in miniera proprio per trovare un bel po' di roba Il pistello del cavolo ti levi dalle palle Oh, non riesco a prenderlo Maledetto stronzo Allora, vediamo di non lasciare niente indietro Visto che... Questa missione era cominciata col fatto di dover raccogliere materiali Non tanto con quella di morire da un enderman Abbiamo perso se non sbaglio tipo 20 livelli Potrebbe rompere abbastanza le palle questa cosa Perché incantare gli oggetti Quando un giorno avremo il tavolo degli incantesimi che si fa con un libro Due diamanti e quattro pezzi di ossidiana Sì Quando incanteremo gli oggetti ci serviranno i livelli per incantarli Il livello massimo è il livello 30 Quindi ogni oggetto potrebbe essere massimo a livello 30 Un tempo c'era anche il 50 se non erro Noi eravamo a livello 26 Eravamo vicini al livello massimo per potenziare almeno uno degli oggetti che avevamo Tipo il piccone Visto che se tipo troviamo fortuna e poi schiamo un diamante C'abbiamo molta probabilità di trovare tipo più di un diamante nello stesso pezzettino Intanto ho trovato un altro smeraldo Che culo incredibile Sto veramente avendo un monto di culo Allora lo prendo giusto così per farmi l'armatura Nel frattempo che aspettiamo di farci quella di diamante Perché abbiamo 8 pezzi di diamanti Ce ne servono altri 17 Potrei cominciare già a farmi qualche pezzo Però non conviene Mi viene farsi tutto insieme Ho già capito Con tutte le storie che sto trovando Diventerò un piccolo pulcino della morte Va bene sì Comunque se non l'avete notato Io ho la skin di Bear Grylls Cioè io sono un Bear Grylls della morte Guardate Qua c'è qualcosa che non ho ancora visitato Interessante Altra acqua Ah ma la grotta prosegue Altro oro Pensavate che fosse finita? Ebbene no Siamo solamente all'inizio ragazzi Oh mio dio È enorme Cheletri Pezzi di merda Via No Lag Lag più totale Aiuto Aiuto Mangia No Oh ragazzi ci muoio eh Se non sto attento Fermi tutti Fermi tutti Fermi tutti Non è finita Io pensavo fosse finita Invece no Ok si sono colpiti da soli Quando si colpiscano da soli Inizia la sfida tra scheletri Bam 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 Guarda lui Lui mi fa cagare Lui è bravissimo Lui li manca tutti E lo colpisce sempre Quindi se sono dei miei piani Lui lo uccide lui E io uccido lui Poi con un colpo Uccido anche te Bene Bravissimo Avete fatto benissimo Ad uccidervi Altri materiali La grotta prosegue Io pensavo fosse finita Invece no Ah sono pieno Allora devo buttare qualcosa L'occhio di ragno Tanto serve per le pozioni Io non me le sono mai studiate Non saprei dove mettere le mani Esperienza La luce della shader Che fa un casino atroce Lava Quelli sono lapislazzoli Piatate chiudo la lava No 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 Lag 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 Ok Non capisco perché mi scatti Così tanto in questi giorni Minecraft Lapiscazzoli Non mi servono a niente Non Inutili Totalmente Però ragazzi sono curioso Di una cosa Allora fermi tutti Via le frecce Di solito Quando ci sono queste pozze Di lava Che livello siamo Siamo a livello 14 Io ci scaverei intorno Perché di solito Ci sono i diamanti Non ci voglio fredere ragazzi Guardate L'ho detto E li ho trovati Cioè io sono Sono il re dei diamanti Cioè sono il re dei diamanti Devo buttare via qualcosa Via la ghiaia Non mi serve a niente Ragazzi dovete fidarvi Di quello che vi dico Perché è così È così Se io ci sono i diamanti Li trovate Ora siamo a livello 14 Quindi dovrei scavare un po' più in giù Però abbiamo già trovato 10 diamanti Cavolo Allora molto bene Prima di combinare un danno Torniamo indietro Anche se qua c'è Ah ok Qui ho scavato Il call prima La grotta adesso dovrebbe essere finita Fino a prova contraria Mi sembra almeno Quindi ora Finisco di prendere gli ultimi oggetti Da due ore Dico finisco di prendere gli ultimi materiali Ma continuo a trovarne infiniti È colpa mia Prendi gli ultimi pezzi di oro Se siamo arrivati a 25 Ci facciamo tutto il set E la madonna Quanto oro 26 Ok Perfetto cazzo Tutto non potrebbe andare meglio che così Buono Allora si potrebbe anche tornare indietro Cosa c'è qua Oh mio dio ancora Oh mio dio Non è fin Ragazzi la grotta non è finita Io non ci voglio ridere Butto l'acqua A meno si spenge la lava E non mi rompe le scatole Ciao creeper Ciao piccolo amico creeper No scherziamo Non sono tuo amico Vieni qua Ma ragazzi allora questo villaggio dei villageri Non si va a trovare Se si sta sempre via Io ve lo dico Dove è finito il creeper Ok affoga Affoga Maledetto Sapete se esplode nell'acqua Ve l'avevo già detto Non fa niente È innocuo Ragazzi altri diamanti Non ci voglio ridere Altri diamanti Io Boh Cioè mai trovato così tanti diamanti In così poco tempo Sono sincero Sto avendo una fortuna Veramente sfacciata Altri otto diamanti Altri otto diamanti No sette Sette diamanti Altri sette diamanti Oh mio dio È incredibile È incredibile Ve lo giuro E la grotta prosegue No vabbè Abbiamo trovato la grotta più prolifica della storia Allora facciamoci delle torce Ormai le esploriamo Cioè sono troppo curioso Però fermi Allora prima di esplorarla Uccidiamo il creeper Quando il creeper esplode Nell'acqua Non fa danno Sono quasi morto Puttana Eva Torniamo indietro Andiamo alla nostra base Ci siamo creati all'inizio E lasciamo un po' di roba Perché allora siamo pieni E quando siamo in miniera Essere pieni Non ha meramente senso Perché tutti i materiali Che troviamo Vengono sprecati Perché li lasciamo lì Oppure dobbiamo rinunciare a qualcosa Che non ha per niente senso Quindi ormai Sono dell'idea E questo episodio Verrà girato in miniera E sono dell'idea E siete contenti di tutto ciò Perché a voi piace Quando sono in miniera Quindi Allora andiamo indietro Torniamo alla nostra base Guardate quanti materiali Ci sono ancora a giro Ora con calma Li troveremo tutti No ragazzi Cosa c'è là sopra Anche là sopra continua Non può essere Non può essere Oh mio dio Oh my god Oh my god Non finiremo Non finiremo mai Di esplorarla tutta Bene bene Torniamo indietro Prima di perdersi Allora Leviamo le torce Da qua sopra Se no poi mi dimentico Che ci devo tornare Allora Siamo arrivati da qua Ecco ho ritrovato la strada Andiamo a mettere la roba Nella cesta E poi torniamo indietro Ho preso tutta la roba Lasciamo i diamanti Ho messo a cucinare Il ferro Però avevo 8 nell'inventario Un po' stanno cucinando qua Ma visto che sembra essere Un lungo viaggio Volevo proprio farmi l'armatura E andare a fare le cose Come si devono Quindi Iniziamo a craftarci Tutta l'armatura La nostra prima armatura Sarà di oro So se sarete contenti Però è così Allora Ci facciamo la cesta Che è la corazza E la mettiamo qua PAM Poi Abbiamo bisogno di altro oro Qui intanto lo cucina Bene Vedete perché la base serve Ci facciamo i pantaloni d'oro Così tra poco Sembreremo il limone Della storia perduta Che vi avevo detto Lasciamo il pietrisco Che non ci serve Il ferro Potremmo fare Ragazzi facciamolo Sì 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 facciamolo Sforniamo una mega base Della vita Qua Allora Prendi un po' di carbone Metti a cucinare ormai Anche il ferro Lascia tutto a cucinare Almeno Non si sbaglia I lingotti Tutto tutto Quindi allora Scarpe Dell'Adidas PAM Adesso ci manca Solo il caschetto PAM E siamo pronti Visto che ho 5 oro Chiudiamo in bellezza Ci facciamo anche No Buttavo gli stick laggiù Che coglione sono Come può un limone Andare a giro Senza una spada di limone Non si può Questa la prendiamo Giusto per bellezza Un po' di ferro Me lo sono preso 17 Diamanti ragazzi Mi mancano 8 Incredibile Il limone ragazzi È pronto per andare Alla riscossa E andiamo a spaccare tutto Allora qua non ci eravamo Ancora stati Giusto Giusto Vedo di la luce Ok perché avevo tolto Mezza torce Per ricordarmi di tornare Bene 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 Allora qua c'è della lava Che livello siamo però Siamo a livello 28 Quindi Non Non credo ci siano diamanti Qua dietro però No Oh mio dio Oh mio dio Un mezzo cuore Siamo arrivati ragazzi Siamo rimasti A mezzo Fottuto Cuore Questa è stata l'armatura Ve lo dico E ci ha salvato Fottutamente la vita Se non avevamo l'armatura Eravamo morti Proprio al 100% Cazzo Se è stato un colpo Al cuore Appena sentite Esplodete di sicuro Perché voi Ci avete attaccato Al buco del culo Quel pezzo di merda Di un creeper maledetto Allora ragazzi Siamo stati fortunati Ma non sarà sempre così Dobbiamo avere più cautela Mi son cagato Veramente addosso Porca miseria Io odio la ghiaia Odio scavare la ghiaia Che ricade 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 Vaffanculo Ah qui c'è un vicolo cieco Andiamo di qua Vedo dell'acqua Vedo Della cobblestone Come fa Madonna questi creeper Come fa ad esserci Della cobblestone Allora lui lo uccidiamo Stronzo No un altro E basta Quanti siete Perché gira su se stesso E pro la mia Boh Sento delle frecce Eccolo là Uno scheletro Un ragno No 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 Poca vita Eccoci Porca miseria Via Oh ma che cazzo è Mori 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 Spiderman di sta ceppa di minchia No 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 ragazzi No no Vi prego vi prego vi prego L'acqua mi sta facendo morire l'acqua Porca troia Porca troia che cagone Sto rischiando troppo ragazzi eh Questa grotta immensa Aiuto Inizio ad avere paura No Basta 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 Skeletri basta basta Allora adesso Mi chiudo qui dentro E recupero vita Perché mi sono stufato di rischiare E' qui fuori Lo sento che è qui fuori Guardate Scommettete è qui fuori Eccolo lì Eccolo lì il bastardo Affanculo Oh Potrei ucciderlo comunque eh Mori Mori Stronzo Che cavolo Allora Riusciamo da qui Mettiamo un po' di torce Altri scheletri Ma qui c'è uno spawn di scheletri Perché non è possibile Mori Maledetto Al buio Non vedo non vedo Dov'è L'ho ucciso Zombie Lava Salite Questa grotta è infinita Abbiamo trovato la grotta Più grossa della storia Delle storie Delle grotte Del server di minecraft Altra lava Allora Qui dietro mi sento Che c'è di diamante Che livello siamo? Livello 22 Non c'è di diamante Scherzavo Scaviamo Vediamo se troviamo qualcosa Oh 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 Errore 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 Io ho l'acqua Cosa abbiamo sotto di noi? Ragazzi abbiamo un buco Sotto i nostri piedi Oh cazzo Adesso è definitivo Mi sono sicuramente perso Sento dei rumori qua Oro Oh my god Una pozza enorme di lava Questo può voler dire solamente una cosa Livello Livello 11 Questo vuol dire diamanti ragazzi Allora butto l'acqua Faccio diventare il tutto ossidiana E qui ci sono dei diamanti Ci potete scommettere veloce volete Allora se trovo dei diamanti Finiamo l'episodio Perché mi sa che è già durato abbastanza E tanto sto registrando E nel prossimo episodio Cazzo Continueremo ad esplorare Perché qui Non siamo neanche agli inizi Dell'esplorazione Cioè è enorme Questo posto Il colmo sarebbe trovare Una fortezza dell'ender Boia Tappa perché non mi fido Scava di qui Scava di là Ok quando ci sono queste pozze enormi Le probabilità di trovare i diamanti Sono molte Sono davvero tante Però anche quelle di rischiare Di morire Sono tante Perché la lava è accanto a voi Se sbagliate una mossa Siete fottuti Se scavate il diamante E vi cade nella lava Bessemiate Lava Lava everywhere La voglio aggirare E passare di qua Mi sa che è più prolifica Come cosa Non sto trovando niente Dove sono i miei diamanti Dove cazzo sono Oro Allora non mi interessa A me interessa qualcosa Di molto più interessante Quante volte ho detto Interessa 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 Redstone Non voglio la redstone Però la redstone Ci dà livelli Quindi è utile da una parte Scavando ragazzi Si fanno un monto di livelli Può non sembrare Però è così Oro Altro oro Troppo oro Sono già un limone Basta Non ho intenzione Di diventare un pompelmo Qui cosa c'è? C'è delle luci Ragazzi Guardate Sono sbucato Sono sbucato all'inizio Cioè vi rendete conto? Ho fatto l'entente Un giro pesca Oh mio dio Incredibile Questi sono i benesseri Del livello 12 Si trovano un monte di cose Un monte di sorprese Soprattutto Peggio che nell'uovo di Pasqua Siamo per restare in tema Esploso anche il piccone Per fortuna siamo qua Almeno non devo A parte no dai Non importa Butto questo Prendo un paio di questi Faccio 7 stick E ci facciamo altri tre picconazzi Super di illusione Ero sicuro di aver trovato qualcosa Invece niente Ero proprio il nulla più totale Allora risaliamo da dove siamo arrivati Che è qua se non sbaglio Si Allora Vediamo un po' Quaggiù Quaggiù che cavolo c'è? Altro buio ragazzi Altra acqua Altri materiali Oh mio dio Diamanti Altri Fottuti Diamanti Allora ragazzi Con quest'ultima soddisfazione Io vi lascio Spero che il video vi sia piaciuto Raccattiamo questi Quanti sono? Due? Uno Due Tre Basta Sono tre diamanti Ok Butta via la selce Butta via questo Diamanti presi Ragazzi abbiamo ancora tantissimo da esplorare Io spero che questo video vi sia piaciuto Se così è stato mi raccomando Lasciate un bel mi piace Noi ci vediamo domani con il prossimo video E tra due giorni sempre con Minecraft Cosa sta per tutto? Guardate il mio minore versi fa Buuuu